Presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Taranto, Begustibus, ristorante, pizzeria, caffetteria e ancora rosticceria, trattoria di mare, gastronomia con self-service veloce. Vari tipi di pizza con impasto a lunga lievitazione, mini pizze, panzerotti, pucce, taglieri di formaggi e salumi con calice di vino, piatti già pronti al banco, oltre a preparazioni espresse a vista, dessert, frutta fresca, zona ristorante con specialità di mare e servizio a tavolo, servizio catering in sede o presso altra location, servizio d'asporto, servizio bar. Ed ora un'offerta imperdibile! Dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 21.30, nel reparto Focacceria, presentando questo coupon in distribuzione all'ingresso di Ipercopo Mongolfiera, riceverai uno sconto del 25% sul totale della consumazione per ogni scontrino. L'offerta è valida fino al 30 settembre. Ti aspettiamo, sapremo prenderti per la gola!